Non ci sono custom music, vero? No, non ci sono custom music, te l'ho anche detto. Eh, vaffanculo. Eh, Suri. Guarda. Guarda la bellezza. Tra l'altro, noto una cosa. Hai visto le zone bianche dentro la P e la E? O tra la K e la E? Bellissime. Vabbè, però anche metto la title screen e va bene. Finalmente ci siamo. Un anno in attesa. M.M.S. 2 è finalmente completo. Ringrazio i segnatori. Drawdown, Stipendi e Fallen in the Dark per avermi aiutato a disegnare i Pokémon che catturerete. Ringrazio anche Mirko per aver ideato alcuni dei Pokémon che abbiamo disegnato. Chiedo scusa se vi abbiamo fatto aspettare così tanto. Se non avete giocato al primo capitolo, non importa. Vi basterà sapere che Tony è stato sconfitto e non è riuscito a appropriarsi da Rai. Ora sto organizzando la sua vendetta. Ci siamo. Premi A. E preparatele a iniziare. Non mi ricordo la sua voce, aspetta. Non mi ricordo la sua voce. E anch'io. Forse vi ricorderete di me per Guida di Coniglietto Batuffoletto e Tu Sai Cosa o Gladys il Mulo Fico. Grazie per aver comprato Come diventare allenatore di Pokémon in 30 minuti con Cosu. La gente di questo mondo cattura i Pokémon. Alcuni li trasportano dentro le Pokémon, altri... Beh, è meglio non saperlo. Nella crusca! Dimmi, sei pronto per cominciare? No. Non importa quello che tu abbia scelto, tanto è una registrazione. Come ti chiami? E ce lo chiedi anche. Me ne vado. Me ne vado. Wow. Non so, hai visto lo sprite? È bellissimo, ma tu non capisci surrealismo, cubismo, astrattismo. Questa è merda, non è arte moderna. Vabbè, comunque sappiamo come chiamarlo, vero? Che dici? È una tradizione. Esattamente. Tra l'altro, lo sprite era di Ash. Il mio sprite è di Gary. È un down per... Sì, puoi dirlo forte. È proprio un down. Dimmi, il tempo alla tua disposizione si è esaurito. Se vuoi continuare ad imparare... Se vuoi continuare ad imparare, ad diventare un allenatore, ti consiglio di comprare come diventare allenatore di Pokémon. Con l'accento sbagliato, tra l'altro, perché è dall'altra parte. In 30 minuti, due. Io quei Pokémon l'ho chiuso dopo quella lotta città laggiù. Ok. You know what to do. Yes. Ma ora... Eh, c'è una pozione. E' giusto. Infatti, ovviamente non c'è il rivitalizzante Max come la Vandonia, eh. È giusto. Sono passati tre anni da quando il nostro eroe ha sventato i piani del mavaggio Tonio Cartonio. Ora si è trasferito in una città di nome Marron Villa, separandosi quindi, finalmente, dalla madre. Ora vive con la sua fedele serva, e sembra aver perso ogni interesse verso i Pokémon. Dannazione. Leggi il cartello, Purisu. E' un biglietto appeso. C'è scritto. Sforzo chi legge. Che sia un messaggio in codice? Ma bene. Prima o poi tutti i ragazzi vanno via di casa. Lo dice anche la TV. Ha modificato il dialogo. Il nostro vicino, il professor Rock, ti sta cercando. Ma comunque sono sicuro che quella sia Alice di Shadow Dragon. Alice! Marron Villa. Mh, cartelli. Sì. Oh, guarda, guarda. Consigli inutili. Primi strati per aprire il menu. Come fanno a peciarsi eventi originali? Oh! Gimmi le bappa, gimmi le bappa, boss. Oh. Guarda, il bug. Wow. E' un poster di una donna nuda. Hai capito il down? No. Ehi, aspetta, non andare. Sento gli eventi riciclati che aumentano. Sì, bla 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 bla. Blah bla 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 bla. Il nostro unico starter. Ah, chi scegliamo? Non è giusto. Questo è Stronzo. Un Pokémon di merda. Che è Stronzo? L'avevo capito anche io. Ma come si chiama? No, no. Stronzo ha il suo nome. È una masso di merda che assume la forma del suo avversario. Allora, lo vuoi? Alpi riceve lo Stronzo e la Professor Rock. No, lo Stronzo e la Professor Rock. Eh. Vai. Di nuovo l'icone ricicliate. Dai tipi. Ho un'idea. Ma perché? Hai presente la cacca rosa di Arale? Io. Ecco, mi ha ricordato quello. Ehi, Alba, aspetta. Metti alla prova il tuo Stronzo. L'avrei chiamato Astra, un po'. Pace. No, sei cattivo. Coraggio, Pikachu. Diamo una lezione a questo vecchio. Ho paura. Immagino che non ci siano così. Beh. Oh my God. Ah, beh, l'avranno presa dall'Inter. Ma ha solamente rugito? Me l'ha paralizzato. Però non è uscito l'alternazione di Stato. Che bello. Già. Eccellente. Se vinci, ottieni un premio in denaro e i tuoi Pokémon guadagnano punti di esperienza. Rafforza questi qua sono gli altri originali. Eh, che strano. Diventerò il miglior allenatore di tutti i tempi. Eccolo. Un'altra delle sue crisi. Povero ragazzo. È molto malato. Dai, questa ci sta. Sì. Ma che cazzo? Il database dei virus di Avast è stato cose. Cose. Ciao, lavoro allo spaccio. Sì. Senza accento. Senza accento. Senza accento.